Musica Musica Professor Mungo, Italia e Cuba unite in una cooperazione nella ricerca in ambito medico-chirurgico. Qual è il significato di questa collaborazione? Il significato è che si è sviluppato un progetto di ricerca negli anni frutto di una collaborazione che è iniziata ormai fin dal 2005 dove la presenza dei medici italiani a Cuba ha avuto la possibilità di verificare e di collaborare con le altre specializzazioni dei colleghi cubani. E da qui è nato questo progetto che si svilupperà nel tempo e mi ci auguriamo negli anni che porterà sicuramente delle importanti innovazioni nel campo scientifico. In quali in particolare? Si parla di bioetica, di chirurgia toracica, sono diverse anche specialità sulle quali incentreranno il loro interesse questi colleghi d'oltreoceano. Si, allora il nostro progetto è un progetto multispecialistico per la chirurgia fondato fondamentalmente sullo sviluppo e il perfezionamento delle nuove tecnologie. Infatti noi abbiamo nell'ambito della nostra associazione che è stata fondata proprio per sviluppare questo progetto a livello internazionale tra Italia e Cuba le varie rappresentanze di varie branche specialistiche della chirurgia che vanno dalla chirurgia generale appunto alla chirurgia toracica addirittura alla chirurgia vertebrale. Oltre alle branche prettamente chirurgiche abbiamo un gruppo di lavoro all'interno della nostra associazione che si occupa fondamentalmente di bioetica. Questo gruppo di lavoro si è affiancato alla nostra attività di ricerca clinica e chirurgica per poter portare avanti anche qui un progetto con i colleghi cubani di sviluppo delle tematiche bioetiche. I vostri colleghi sono in Italia, a Roma in particolar modo dopo aver visitato Tor Vergata, l'università, poi si sposteranno a Napoli e sono giunti sino qui a Villapia in questa clinica nel cuore di Roma. Quali sono le eccellenze che mostrerete loro? Noi mostreremo le eccellenze delle varie strutture sanitarie italiane proprio perché nel progetto di collaborazione tra Italia e Cuba che è nato grazie all'Università della Sapienza, grazie all'ospedale importante italiani e grazie a partner dell'ospedale privata accreditata come in particolare Villapia che da subito ha aderito al progetto. Quindi noi teniamo a far vedere ai colleghi cubani tutte quelle che sono le eccellenze cliniche italiane, la buona chirurgia e la buona medicina che si fa in Italia e così per andare a fare un raffronto e una collaborazione con la buona e ottima medicina e chirurgia cubana. Professore Berlogo, lei dirige l'unità operativa di chirurgia generale e anche dei trapianti al Policlinico di Roma. Dov'è che rinviene anche delle accomunanze in quella che è un'esperienza italiana e in questo caso oltrooceano cubana? Beh, innanzitutto il conoscere mondi diversi, esperienze, sia da punto di vista sociale che da punto di vista assistenziale. Cuba è una nazione dove la medicina ha e ha avuto in passato un grande sviluppo e soprattutto nella proiezione futura delle nuove tecnologie e delle cellule staminali, della genomica, della genetica, loro sono molto molto avanti. Questo probabilmente è determinato dal fatto che la loro legislazione non è coercitiva e quindi consente di portare avanti dei discorsi sulla ricerca un po' diversi rispetto a noi. Qual è il contributo anche che può dare la sanità privata convenzionata insieme a quella pubblica in determinate materie su tematiche di stretta attualità come le staminali per esempio? Questo è un campo aperto che necessita di una cooperazione e collaborazione tra tutte le unità operative in materia e il pubblico da solo non riesce a portare avanti, lo sappiamo tutti, la ricerca. Il supporto del privato diventa importantissimo oggi e tutti i progetti di ricerca che noi facciamo devono essere supportati al 50% da un supporto di tipo privato. L'esperienza clinica è quanto forse di maggior interesse in quello che è stato il percorso evolutivo della medicina a Cuba e cos'altro secondo lei? La medicina cubana la possiamo mettere oggi ai primi posti a livello mondiale è una medicina, più che una medicina è una sanità pubblica che consente a tutti di avere un'ottima assistenza quindi da questo punto di vista può essere paragonabile alla nostra medicina, alla nostra sanità sanità pubblica dove il privato esiste ma è controllato dallo Stato dove certe patologie vengono trattate in maniera eccellente la sanità a Cuba è la terza industria del paese per investimenti e per disponibilità di mezzi e costi e per beneficio che la nazione cubana ne ha della vendita della medicina anche all'estero L'Havana ha oltre 40.000 studenti in medicina provenienti da paesi del Sud America e dell'Africa nello stesso tempo L'Havana che ha sei facoltà di medicina produce un numero elevato di medici che vanno a lavorare nei paesi del Sud America e dell'Africa Abbiamo ascoltato alcune delle eccellenze descritte in questo incontro bilaterale Italia-Cuba in un incontro che ha visto soprattutto emergere importanti tematiche la salute come diritto del popolo in assoluto questo vale sia in Italia sia a Cuba chiedo all'amministratore unico di Villapia Daniela Portari questo tavolo etico giuridico anche nella collaborazione Italia-Cuba su che cosa si basa, su che cosa falleva? Certo, falleva sul fatto che l'animo umano ha delle sensibilità che non vanno sottovalutate perché in tutte le parti del mondo l'uomo ha questo bene enorme che è la salute però quindi si accompagna spesso alla sofferenza e il medico deve senza alcun dubbio essere vicino, con amore e comprendere la psiche del paziente che onestamente quando la salute vacilla rende sempre più debole, più delicato e più attaccabile e quindi il medico è una figura che deve poter raccogliere questo spirito questo animo così desolato perché la salute è un bene enorme e solo quando manca, quando viene un po' meno si rende uno conto di quanto invece è importante Professore Godric Lalanne, lei è presidente della società cubana di chirurgia qui in Italia ha visitato tante strutture tra cui ospedali, Tor Vergata, a Napoli presto andrà e qui a Villa Pia che cosa l'ha colpita della sanità italiana anche in queste strutture private convenzionate? Noi, in questo momento che ci troviamo con le relazioni Italia-Cuba nel campo della medicina e in specifico della cirurgia entendiamo che la collaborazione è un intercambio scientifico basato in principi, principi che dimana di la correcta attività medica vedendo che il paciente è un ser psicobiosociale bio perché sta vivo è psicobico perché è un hombre che vive, che pensa, che sufre, che padece e social per la società in cui vive vediamo con placer come in nostra Costituzione e in la Costituzione italiana si recoge che la salute è un derecho del pueblo independientemente del sistema di struttura che può existire in ogni paese dato per le condizioni politiche e sociali però lo fondamentale è il lavoro medico il lavoro umano il lavoro basato in queste concezioni che dimana di nostra ragione di essere di vedere la medicina come un sacerdocio come una pratica in bien della humanità e qui abbiamo comprovato lo che già sappiamo per le nostre relazioni anteriore del sentido del lavoro dei chirurgiani italiani e cubano permittame dire che in Cuba se conosce molto della storia della chirurgia italiana la chirurgia italiana vivono momenti storici in altri secoli desde Eduardo Bassini, per esempio, di Padova passando per altri molti hai personaggi di la chirurgia italiana che marcano pauta in tecnica non olvidata oggi ancora con i adelantos tecnologici e questo lo vemos con placer lo vemos con satisfacione e soprattutto in questi giorni di lavoro abbiamo visto una confraternità una unità e un sentido di intercambio di collaborazione di satisfacione plena del médico in beneficio del paciente venite a mi come poesia in la cancion mostrandome un nuovo mondo di pasione amando